via brighindi secondo piano proprio sopra la farmacia di via brighindi siamo entrati questa è la prima camera da letto parliamo di un appartamento di 105 metri quadri a 69 mila euro gli infissi come avete potuto vedere sono quelli bianchi in pvc con il doppio vetro questo è il corridoio il bagno subito dopo il bagno abbiamo la camera da letto matrimoniale è un immobile con due camere questa quella matrimoniale e la prima stanza che funge da seconda camera l'immobile attualmente abitato dai proprietari quindi è un buono stato di conservazione vi sto facendo vedere la cucina una cucina abitabile e per finire il salone molto assolato molto luminoso addirittura con tre finestre il salone affaccia direttamente sugli abbrighindi e dal salone usciamo su un balcone questa è la zona siamo proprio al ridosso dell'amministrazione provinciale come vi dicevo dal balcone accediamo a quello che è il terrazzo di proprietà di 35 40 metri quadri circa che sono sul lato dell'appartamento